Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati su Dragon Ball Z a Dokken Battle, però questo qui non sarà un pack opening. Infatti, se volevate prima di tutto vedere un pack opening o magari un gameplay su Dokken Battle, vi consiglio di aspettare a domani, perché, già ve lo dico da adesso, domani uscirà un gameplay più pack opening su Dokken Battle. Quindi, non vi preoccupate, aspettate a domani. Mentre quest'oggi, l'argomento del video è un pochino diverso rispetto al solito. Infatti, questo sarà un video discorsivo, anche se comunque due sbustatine ce le andiamo a fare in questo video. Quindi, non ci facciamo mancare praticamente nulla. Comunque, l'argomento di oggi qual è? È il fatto che comunque, sotto qualsiasi video di Dokken Battle che sto pubblicando ormai da un bel po' di tempo, aleggia sempre una domanda, padroneggia sempre la solida domanda rispetto alle altre. E cioè, come fai ad avere tante Dragonstone? E attenzione, questo video chiarimenti non è per aprire alcuna polemica. Non è successo praticamente nulla, nessuna situazione spiacevole. Ma è soltanto per chiarire perché ho così tante Dragonstone in qualsiasi video, dato che comunque la domanda me la fate davvero in molti. Quindi, senza che devo mettermi a rispondere ad ogni commento, magari anche con dei copia e incolla, faccio direttamente questo video così più persone lo vedono e meno la domanda credo che verrà posta in futuro. Quindi, chiariamo un pochino la situazione, anche se comunque non è diversa. Cioè, le spiegazioni che vi darò in questo video non sono diverse da quelle che vi ho dati nei commenti. Che vi ho dati nei commenti, vabbè, comunque. Iniziamo quindi l'argomento del video. Allora, perché ho tante Dragonstone? Se avete notato, qualsiasi... Allora, partiamo dal principio. Io, qualsiasi video di Dock & Battle, che comunque... Aspettate un attimo che mi abbasso il volume. Ecco qui. Me lo abbasso un pochettino. Dicevo, qualsiasi video che vi porto di Dock & Battle da un bel po' di tempo, che ormai si è visto che vi sto portando soltanto pack opening, perché i gameplay, comunque, cerco di portarveli il meno possibile perché mi lagga un pochino, sinceramente. L'iPad non è che è l'ultimo uscito, l'iPad... mi sembra che si chiama il nuovo iPad, comunque di terza generazione. E non capisco perché comunque... quando registro mi fa laggare praticamente tutto, almeno in battaglia. Oddio, anche nei pack opening, però comunque ci stiamo perdendo ovviamente in chiacchiere. Dicevo, avete visto comunque che i pack opening che vi propongo, di solito, a parte che ve ne propongo uno a settimana, quando va bene, al massimo ve ne porto due. E di quell'uno a settimana, se notate comunque, non è recente. Anzi, il pack opening risale addirittura ad un mesetto o ancora di più addirittura, se si può dire, ad un mese e mezzo prima, diciamo, della registrazione. Cioè, quando io vi pubblico il video, il video in pratica l'ho registrato un mese prima o addirittura un mese e mezzo prima. Questo perché? Perché c'è stato un periodo in cui, diciamo, per portarmi avanti con i pack opening da registrare, in pratica per non farvi mancare mai una settimana, almeno un pack opening, mi sono registrato un bel po', appunto, di summon e ve le ho fatte uscire settimana per settimana. Quindi è ovvio che settimana per settimana c'era un sacco di distacco, diciamo, fra l'uscita dell'evento in Dokken Battle e quindi il video in cui andiamo a sbustare proprio quell'evento e quindi si è creato questo lasso di tempo di pack opening in pack opening. Credo che mi abbiate capito comunque cosa voglio dire. E quindi, detto questo, il punto qual è? Il punto è che io facendovi uscire il pack opening settimana per settimana e avendo tempo, diciamo, cioè addirittura facendo passare mesi dal pack opening registrato alla pubblicazione, io in quel lasso di tempo comunque ho la possibilità di, diciamo, recuperare almeno le dragon stone che ho speso all'interno del pack opening. E come le vado a recuperare? Semplicemente facendo quest ed ottenendo regali. Regà, non faccio niente di più. Mai toccato una gemma, una dragon stone a pagamento? Non so come farvi vedere, sinceramente. Qui non ho mai toccato nulla. Cioè, se io vado a premere, a parte che se vado a premere esce la mia email. Vabbè, quindi da qui non potete vedere. Però, vi faccio un attimino vedere le mie quest, che tra l'altro, tra l'altro qui ho 164 dragon stone, che ce le andremo a spendere, credo, la settimana prossima. Molto probabilmente arriverà un pack opening sugli eventi che sono usciti praticamente oggi, per voi ieri. E quindi, vabbè, ci stiamo di nuovo perdendo. Li state vedendo già qui. E' uscito di nuovo il Dokken Festival, quindi ci andremo a spendere un bel po' di dragon stone. E quindi, da ora in poi, vedrete comunque degli eventi o magari dei video in cui abbiamo delle summon recentissime, se non contemporanee con quelle che ci sono in gioco. Però questo comunque comporterà cosa? Comporterà che non posso più recuperare dragon stone come prima. Quindi, per ovviare a questo problema, o qualche settimana salta dragon stone, stava a dire. Qualche settimana o salta Dokken Battle, quindi il pack opening, oppure cerco di tamponare un pochino con la versione giapponese o con l'altra versione global, con l'account secondario, che tra l'altro me ne sono creato un altro. E anche lì ho un bel po' di dragon stone, però tutte ricevute tramite regali. Regà, secondo voi, a parte questo, mi apro un account di livello 1 e secondo voi ci spendo tutti i soldi, tutti quei soldi che... c'ho quasi 100 dragon stone sull'altro account, forse anche di più o un pochino di meno. Quanto costano 100 dragon stone? Regà, 91 dragon stone costano 45 euro. Io sinceramente, con un video, nemmeno un euro ci faccio e ve lo dico. E quindi, possibile che secondo voi, con un nuovo account di rank 1 mi vada a spendere un 50 euro, un 45 euro per farmi, per mettermi 91 dragon stone? A parte che, se mai un giorno dovessi spendere qualcosina in dragon stone, ve lo dirò assolutamente all'inizio del video. Dirò, regà, guardate, ho speso tot soldi, però per portarvi un contenuto in più. Io non sono assolutamente contro chi shoppa nei giochi, purché lo faccia per portare nuovi contenuti. Cioè, tutti gli youtuber che shoppano per me fanno benissimo, perché lo fanno per portare nuovi contenuti e quindi nuovi video per farvi vedere, ovviamente. Vabbè, da farvi vedere su YouTube. Io per il momento ancora non l'ho fatto in qualsiasi gioco, non l'ho fatto in Dokken Battle, non l'ho fatto in FIFA, non l'ho fatto... non mi ricordo quali altri giochi ci sono in cui bisogna pagare, pay to win. Che questo, tra l'altro, non è un pay to win. Comunque, non ricordo quali altri giochi ci sono, ma per il momento non vi ho portato alcun pack opening di alcun gioco a pagamento. Comunque, vi dicevo, volevo farvi vedere un attimino le quest, perché ho praticamente completato tutte le quest, e quindi tutti gli scenari almeno a normale. Poi ho completato... mi manca l'ultimo scenario da completare ad hard, e poi mi sto completando tutti gli altri scenari a zeta hard. Che, completandoli a zeta hard, diciamo, ogni episodio, mi darà ben due dragon stone, se non sbaglio. Anzi no, me ne dovrebbe dare una, però ad ogni finale di scenario me ne dovrebbe dare due. Quindi, potenzialmente, ho ancora altre dragon stone da ricevere. Poi, mi sono trovato... ah, un'altra cosa, ovviamente. Voi vi domandate, perché hai tutte quelle dragon stone? Cioè, non è possibile che con le missioni che hai fatto, e con i pack opening che hai fatto, hai tutte quelle dragon stone. Io però mi sono trovato al punto che, prima di tutto, prima di iniziare a portarvi i pack opening, mi sono fatto un bel po' di dragon stone da tenere. Poi, io non tocco una dragon stone se non registro. Cioè, io, al di fuori della registrazione, regà, le mie dragon stone rimangono lì, non le ho mai toccate. Forse mi sarò speso, sì e no, 5-10 dragon stone fuori dalla registrazione, ma non ci ho trovato nulla, perché altrimenti ve l'avrei fatto vedere. Anzi, trovai Goku Super Saiyan, che poi facemmo il Dokken Awakened, appunto, con questo Goku. E quindi, poi mi sono ritrovato, diciamo, a giocare e ad ottenere regali e a tenermeli assolutamente quando ci fu l'anniversario di Dokken Battle, allora non ricordo, che davano, ma tipo, tantissime dragon stone, mai quanto il giapponese, ma comunque davano tantissime dragon stone a qualsiasi accesso. Quindi, regà, quello che vi consiglio è, fatevi le missioni, entrate ogni giorno, regà, più login consecutivi fate, infatti, mannaggia, guardate, non riesco nemmeno più a parlare oggi. Comunque dicevo, più login consecutivi fate in gioco, meglio è, più dragon stone riceverete e più reward riceverete. Quindi, direi che bene o male vi ho chiarito un pochino tutto. In realtà non c'era nulla da chiarire, perché, pensandoci bene o male, con le risposte che già avevo dato in alcuni commenti, cioè, già vi avevo detto alla fine cosa faccio, ottengo solo regali e faccio le missioni. Tra l'altro, se vedete qui, ho quattro gift a disposizione, se vedete, non ve li faccio vedere, perché questi qui mi serviranno in un altro video, magari proprio la prossima settimana. Però, in questi gift c'è qualcosina di molto molto caruccio, che mi aumenterà ancora di più le dragon stone, non vi dico nulla. Quindi, 164 dragon stone, ora ce li andiamo a spendere un pochino. Ci andiamo a fare magari due summon, vediamo un pochino. Però, potenzialmente sono molte di più, perché non vi dico cosa c'ho in quei gift, però, calcolate che ce ne sono, non vi dico più niente, dai, altrimenti vi spoilerò tutto. Quindi, 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 magari già avrete capito cosa si trova in quei gift. Comunque, lasciamo perdere. Direi che il discorso l'ho terminato, non ho più nulla da dire, quindi spero di avervi chiarito qualsiasi dubbio. Non faccio, non ho nessun trucchetto, né ho shoppato, né nulla, per ottenere dragon stone. Voi, secondo me, quando qualcuno mi fa la domanda, come fai ad avere tante dragon stone, cerca magari qualche trucchetto, qualcosa che io abbia fatto, diciamo, non in maniera proprio legale, oppure consentita dal gioco per avere tante dragon stone. Invece no, regà, solo regali, mi tengo le dragon stone, me le conservo per quando ho uno spacchettamento. Se voi avete zero dragon stone, è perché appena avete le 5 dragon stone, le 10 dragon stone, le 15 dragon stone, non avete, diciamo, l'impegno di far vedere un video a nessuno, quindi ve le sbustate lì. Io invece, quando ricevo 5 dragon stone, 10 dragon stone, me le devo sempre conservare per quindi portarvi nuovi contenuti sul canale e quindi registrarvi nuovi pack opening e nuovi video. Detto questo, abbiamo concluso quindi, e mi sa che vi devo, ora che sto vedendo, vi devo censurare assolutamente una parte di questo video, perché altrimenti il pack opening di domani non ha praticamente senso. Quindi, lasciamo perdere, andiamo un pochino nelle summon, dai, perché sono usciti degli eventi... Ora vediamo, eh, regà. Allora, iniziamo già a vedere da qui multi summon con 30 e guardate l'evento. Goku Super Saiyan di terzo livello, agile e signori, arriva finalmente. Vegeta Super Saiyan di terzo livello nel global. Qui, regà, ci andiamo a fare almeno due multi summon. Non ce le andiamo a fare oggi, però molto probabilmente arrivano la prossima settimana. Anzi, la prossima settimana forse arriva un altro pack opening sul giapponese che, regà, dovete vedere assolutamente. Lo dovete vedere assolutamente, perché fa cadere praticamente qualsiasi cosa, qualsiasi teoria avevamo fino adesso su Dokken Battle. Quindi questo, non lo so, o ve lo porto stesso la settimana prossima, oppure vediamo. Per il momento ancora non ho registrato, quindi ve lo registrerò magari domani, oppure stesso la settimana prossima. Oggi è giovedì, tra l'altro. Giovedì 5 maggio, quindi state vedendo praticamente il video il giorno dopo. Quindi, andiamoci a fare una single summon da qui, dai. Perché non voglio lasciarvi comunque senza niente. Quindi, proviamo un pochino a vedere se la fortuna magari ci dà qualcosa. Anche se in questo video, come vedete, non era previsto alcun pack opening. Quindi, mamma mia! Mamma mia, regà! Mi sento male se esce qualcosa di potente qui. Cioè, pack opening non previsto se ci esce qualcosa. Mio Dio. Stavo flashando il terzo livello, vediamo. Ma dai, non ci credo. Non ci credo, regà. Qui davvero pensavo ci uscisse qualcosa di potentissimo. Quindi, ci esce Kaioshin, che abbiamo fatto un pochino l'abbonamento ultimamente, se non sbaglio, con questo Kaioshin. Andiamoci a fare un'altra single summon. Magari forse ce ne andiamo a fare anche un'altra. No, vabbè. Ce ne andiamo a fare anche un'altra, forse. Però, di altre summon. Questo Dokken Festival lasciamocelo un pochettino per il momento. Quindi, release giallo, normalissimo. Nemmeno Super Saiyan, purtroppo. A meno di un miracolo improvviso. Mamma mia. Peccato. Tagoma addirittura raro. Quindi, nemmeno SR. Dai, voglio provare almeno un'altra di single summon da questo Dokken Festival. E poi ci andiamo a fare un'altra summon, però, dall'evento di Dragon Ball. Perché ho talmente tanti biglietti da sfruttare. Che, vabbè, poi vedrete. Mamma mia, arcobaleno. Super Saiyan, dai, 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 dai. SS, cioè, SR garantito almeno. Secondo? Perché ci mette tutto questo tempo. Che mi fa sempre credere che un... Che un SSR, infatti. È Vegeta, Super Saiyan, SR. E quindi, dai, ci siamo spesi comunque 15 dragonstone che non erano previsti assolutamente. Andiamoci a fare un'altra summon, però, ce l'andiamo a fare questa volta nell'evento dedicato a Dragon Ball. Cioè, quello lì del torneo mondiale. Intanto vi faccio ancora vedere che abbiamo una single summon ancora da sfruttarci per l'SSR garantito. Guardate quante cose mi conservo. Tutto per contenuti. Quindi, andiamoci a fare una single summon da qui. Sono davvero curioso di cosa possa uscire. Diciamo che io, tra l'altro, mi sto conservando parecchio questi biglietti di queste summon. Perché questi personaggi non mi soddisfano molto. Cioè, possiamo trovare soltanto tre SSR, di cui solo due mi piacciono. Dai, subito Super Saiyan qui. Vediamo un pochino. Primo. Secondo. Dammi il terzo. Non mi dà il terzo, ovviamente. Speriamo di trovare subito un SSR. Vediamo, vediamo. No. Troviamo Tensing. Che va dall'altro. Un Tensing in una posa davvero incredibile. E magari, raga, fatemi sapere se volete proprio un pack opening incentrato su tutte i summon della saga di Dragon Ball. Ora, per concludere, ci andiamo a fare una single summon con questi biglietti dorati. Perché non l'ho mai fatta, sinceramente. O forse sì. E mi sembra che mi uscì da una single summon con un biglietto dorato mi uscì Bulma. Allora, giallo. Nemmeno Super Saiyan addirittura. Quindi, vediamo, vediamo, vediamo. Forse da qui con i dorati sono almeno SSR garantiti. Addirittura. King Chappa. Raro. Quindi, raga, questi biglietti a cosa servono? Vabbè. Comunque, lasciamo perdere tutto questo. Teniamoci ancora questi biglietti. Perché dobbiamo andare alla ricerca assolutamente di Goku bambino. Andiamoci a fare soltanto un'altra single summon da qui, raga. Perché... È troppa la voglia di trovare qualcuno di potentissimi. Io non so come andrà a finire assolutamente qui. Cioè, qui rischio davvero di buttare tutte le Dragonstone. Mr. Satan. Giallo. Nemmeno Super Saiyan. E quindi mi sa che non troviamo praticamente nulla. Vediamo. Vabbè. Non che sia un problema per il momento. Perché questo video comunque era studiato soltanto per parlare dell'argomento. Ci siamo fatti anche qualche spustata. E quindi direi che per il momento possa bastare qui. Quindi, vi ho già detto che ci andremo a fare un bel pack opening con, credo, due multisummon almeno dal Dokken Festival. Vi ho detto che domani uscirà un gameplay più pack opening, appunto, su Dokken Battle in cui andremo a provare un pochino gli SSR nuovi. E quindi, detto questo, spero che il video comunque vi sia piaciuto. Fatemi sapere un pochino le vostre opinioni. Fatemi sapere... Non saprei cosa, perché alla fine le spiegazioni che vi ho dato credo che vi abbiano tolto qualsiasi dubbio. Io non me la prendo assolutamente e non mi incazzo assolutamente quando mi fate la domanda come fate avere tante Dragonstone. Però, comunque, ci tenevo a farvi questo chiarimento perché quando vedo che una domanda viene fatta troppe volte, decido di sana pianta di farvi un video dedicato. E quindi, per farlo vedere a più persone possibile, quindi per dare la risposta a più persone possibili, senza che devo scrivere ogni volta nei commenti. Quindi, vi riperdo, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto. Datemi un pochino di supporto per i prossimi pack opening che arriveranno, perché quello di domani è andato come è andato, ma i prossimi devono andare bene. Non ho nessun pack opening a disposizione, anche ne ho... Anzi, perché quella anche... Anzi, dicevo, ne ho solo uno da far vedere sul giapponese, per il resto sul global ho soltanto da sbustare. Quindi, datemi voi la forza e la fortuna. E quindi, condividete il video se vi va, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, commentate, e credo non ci sia più altro da fare, se non, salutarci e darci appuntamento. Come al solito, ad un prossimo video!